Cuneo domenica, filottrano mercoledì, nel mentre la possibilità di una spesa last minute nel mercato di riparazione. L'epiupo, mi casalmaggiore, è chiamata al riscatto su due fronti. Il primo, quello del campo, porterà le rosa a misurarsi a stretto giro di posta con la Bosca San Bernardo e la Lardini, in entrambi i casi lontano dal Palaradi. L'altro fronte aperto per la risalita è quello del restauro del roster e l'indiziata principale per cambiare aria potrebbe essere l'opposto Polina Raimova. L'amore tra la Zera e il resto del gruppo non è mai sbocciato. Vuoi per il carattere riservato del Martello dell'Est, vuoi per la mancanza di sintonia con i palleggiatori rosa, i primi sentori di una separazione clamorosa sono venuti in superficie ad inizio 2019. Le cinque sconfitte nelle ultime sei gare, condite da qualche rumorosa esclusione, non hanno favorito l'idilio tra Raimova e la VBC, tanto che il procuratore della giocatrice si è già materializzato a Cremona e a Istanbul vedono già Polina vestita con la canotta della Turkish Airlines. In attesa che a prendere il volo sia il mercato di Casal Maggiore, Lepiupomi dovrà rimpinguare il bottino in campionato, a cominciare da domenica, ore 17, al Palauvi Banca di Cuneo.